A Belmonte Mezzani, il sabato, i ragazzi scendono in campo per divertirsi. Si riuniscono in un pub, in un piccolo pub, dal quale nasce una vera musica. Dove si riuniscono i più grandi artisti, nell'unico, inconfondibile Boulevard. In anteprima mondiale, a Belmonte Mezzani, la presentazione dei nuovi volti del cinema italiano. A Belmonte Mezzani, il sabato, i ragazzi scendono in campo per divertirsi. Il creatore, il diretor, il compositor. Tre menti per lo stesso obiettivo. Nei migliori cinema. Da questo momento, in console, suona DJ Eyelander. A Belmonte Mezzani. Take me away on a holiday, sugar. We can be free alone by the river. A glass of champagne in a candy rain. Dancing on a rainbow. And if you've got a baby, just don't tell her that you're hanging with me. I'll be your baby from a movie screen. And if she calls you baby, someone tell her she should worry. I'll be your baby from a movie screen. And if you've got a baby, you'll have to go until you've got me. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no